Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video, un video in collaborazione innanzitutto bisogna dire che questo video è stato ideato da Ketty Centos vi lascio qua sotto comunque il link ed è un video in collaborazione con un numero spropositato di youtubers con la mia stessa passione vi lascio comunque nell'info box tutti i link ai canali delle ragazze che hanno collaborato a questo video si tratta di 5 prodotti con il buco ovvero quei 5 prodotti che stanno finendo e ormai hanno il buchino io non ne ho 5 ma ne ho solamente 3 ma partiamo subito innanzitutto il primo prodotto è il fondotinta compatto di pupa come potete vedere ormai non ce n'è praticamente più cioè il buco è veramente grande ma ho adorato questo fondotinta perché era veramente troppo troppo buono credo che lo ricomprerò assolutamente perché è fantastico mi piace troppissimo e l'ho usato come potete vedere tantissimo il secondo prodotto con il buco che si è appena formato lo vedete vediamo se riesco a venire un po' più vicino senza andare fuori fuoco questo qui che è il colore amber della palette mistero barocco di neve è un colore rosso io amo un colore rosso e per una vita ho cercato un ombretto rosso è stato difficilissimo trovarlo infatti quando è uscita questa palette di neve l'ho dovuta comprare subito e questo è effettivamente il colore che ho usato di più finora il terzo prodotto con il buco non è un ombretto non è un fondotinta compatto ma è questo ombretto in crema di Kiko che è il color shock numero 100 che si è un ombretto in crema e l'ho quasi finito questo ombretto in crema è il mio alleato nel make up di tutti i giorni non lo uso da solo perché non mi piace moltissimo utilizzato da solo ma lo utilizzo sempre 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 sotto ogni make up come base perché è veramente perfetto e lo fa durare tutto il giorno è adorabile non so se sono ancora in vendita effettivamente questi ombretti in crema non so dovrei verificare però mi è piaciuto talmente tanto che dopo lo ricomprerò in questa colorazione non è proprio perché è perfetto come base questi sono i miei tre prodotti è un video veramente velocissimo io ringrazio Kati 100 per avermi dato questa opportunità ringrazio tutte le ragazze che hanno collaborato vi invito ad andare a vedere tutti 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 i loro video perché sono sicuramente da vedere iscrivetevi al mio canale iscrivetevi a tutti tutti questi canali che ci sono qui nell'info box perché sono tutti canali veramente grandiosi e noi ci vediamo al prossimo video un bacio